In questo appuntamento con Unicam News, grande successo per l'evento finale del distretto culturale evoluto Piceno. Unicam Primo Ateneo ad adottare linee guida per un reclutamento trasparente. Giovane ricercatrice Unicam tra le cinque vincitrici del premio L'Oreal Italia per le donne e la scienza. Ha segnato al professor Marc Antoni il premio Gico. E ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Unicam News. Abbiamo sentito i titoli, allora partiamo subito con il primo servizio. Grande successo per l'evento finale del distretto culturale evoluto Piceno. Il progetto finanziato dalla regione Marche che nell'arco di due anni ha messo a sistema aziende, enti e università per la valorizzazione del bello, buono e ben fatto sul territorio attraverso il fil rouge del design. Capofila del progetto il Consorzio Universitario Piceno con il contributo scientifico della Scuola di Architettura e Design di Unicam. Un percorso denso di appuntamenti, di conferenze, seminari, workshop che ha generato proposte progettuali innovative volte a valorizzare e rigenerare i patrimoni culturali del bello, buono e ben fatto del territorio Piceno. Attraverso azioni di design che vanno dalla comunicazione visiva per la cultura, allo storytelling territoriale, allo sviluppo di prodotti di merchandising museale e turistico, in particolare per il Comune di Ascoli Piceno e per il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto. La manifestazione di chiusura si è aperta con il convegno nel corso del quale sono stati presentati i risultati del progetto. Riccola vicendarsi degli interventi con saluti istituzionali, introduzioni, videoproiezioni e testimonianze. È stata poi inaugurata la mostra che resterà aperta fino al 22 luglio e che è organizzata in quattro sezioni. Racconto visivo, storytelling territoriale, comunicazione visiva per la cultura, merchandising museale e turistico. La giornata si è conclusa con lo spettacolo 3B ideato e messo in scena dalla Compagnia dei Folli. L'Università di Camerino è il primo Ateneo in Italia ad adottare le linee guida per le procedure di reclutamento dei ricercatori che sia aperto, trasparente e basato sul merito. Il documento è stato predisposto dal Presidio Qualità per le Risorse Umane per la Ricerca coordinato dalla professoressa Anna Maria Eleuteri. L'abbiamo incontrata. La nostra Università è tra i primi Atenei a mettere in atto delle politiche per avere un reclutamento aperto, trasparente e basato sul merito. L'Ateneo ha deciso di intraprendere questo percorso anche per dare seguito all'impegno che lo scorso luglio è stato preso all'Università di Camerino dove tutti gli Atenei d'Italia si sono riuniti per sottoscrivere una dichiarazione di impegno relativamente a politiche di reclutamento aperto, trasparente e basato sul merito che a sua volta fa parte dell'applicazione dei principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per i Ricercatori. L'attuazione delle linee guida e delle linee politiche che il Presidio Qualità Risorse Umane ha individuato per attuare un reclutamento aperto, trasparente e basato sul merito, ci consentirà di attrarre i migliori candidati per le posizioni future che il nostro Ateneo bandirà. Maria Vittoria Micioni di Bonaventura, laureata Unicam in Farmacia nel 2008 e dottore di ricerca in scienze farmaceutiche sempre presso il nostro Ateneo, è una delle cinque vincitrici dell'edizione 2016 del prestigioso premio nazionale L'Oreal Italia per le donne e la scienza, promosso da L'Oreal Italia in collaborazione con la Commissione Nazionale per l'UNESCO e giunto quest'anno alla quattordicesima edizione. La sua attività di ricerca è incentrata su disordini alimentari e obesità e in particolare per questo premio ha presentato un progetto per un nuovo approccio farmacologico per il trattamento dell'obesità e dei disturbi alimentari correlati con gli episodi di binge eating. Nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuta a Milano lo scorso lunedì, la platea ha potuto vedere le ricercatrici raccontare con le loro parole, attraverso emozionanti contributi video, la loro attività quotidiana, le persone che ne fanno parte, la loro vocazione per la ricerca scientifica. Grande soddisfazione dunque per la dottoressa Maria Vittoria Amicioni che ha ricevuto anche il plauso del rettore Flavio Corradini, entusiasta per l'ulteriore conferma ricevuta per la qualità della ricerca dell'Ateneo. È stato assegnato al professore Enrico Marcantoni il premio Gico Senior, conferito con scadenza biennale dal gruppo interdivisionale di chimica organometallica della Società Chimica Italiana, un illustre scienziato italiano che abbia apportato contributi di particolare rilievo scientifico, innovativo o applicativo nel campo della chimica organometallica. Abbiamo incontrato il professor Marcantoni. Il gruppo organometallica della Società Chimica Italiana ogni due anni dà questo premio è un riconoscimento per ricercatori italiani e non, anche perché è internazionale e chiaramente io sono stato fortunato a trovarmi in questo momento, ma è un riconoscimento per tutto il gruppo di chimica organica dell'Università di Camerino ed è un premio che riguarda il fatto dell'impegno, dell'impiego della chimica organometallica, appunto nel nostro caso nella sintesi di nuove molecole con attività biologica e proprietà farmacologiche. Per quanto riguarda questo premio Gigo Senior, l'aspetto importante è sulle applicazioni della sintesi organica in molecole con attività biologica e l'utilizzo farmaceutico. Abbiamo sintetizzato una molecola che chiaramente si è dimostrata più efficiente di quella naturale, questo perché chiaramente per un chimico la natura è fondamentale, è la maestra dal quale imparare e ci ha permesso appunto di studiarla e sintetizzarla e dei colleghi dell'ospedale Sacco di Milano hanno fatto un studio in vivo e ha un'attività contro il melanoma, il cancro melanoma più efficiente di quello naturale perché è più attivo. Bene, con questo è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alla stessa ora. Vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni sull'Università di Camerino nel sito www.unicam.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.